Ciao, sono Didi, MLA Lover, e sono qui per parlarti delle fantastiche attività che MLA ha pensato per la tua vacanza studio all'insegna del divertimento. Sin dal primo giorno la tua esperienza sarà accompagnata dall'indimenticabile colonna sonora, la MLA Summer Song, che ballerai all'inizio di ogni attività. Le nostre fantastiche escursioni ti faranno sentire come il protagonista della tua serie tv preferita e anche quando starai nel campus ti divertirai con le infinite attività MLA Days. Sport, STEM, Drama Club fino alla sera per prepararti alle MLA Nights. So cool! Ma non finisce qua, quest'anno grazie all'incredibile collaborazione con Lego, MLA ha introdotto un'attività super interessante. In alcuni centri sarà possibile costruire un vero e proprio robot. Grazie alle basi di coding che imparerai durante la vacanza studio potrai addirittura programmarlo. Che ti dicevo, MLA è sempre un passo avanti. Ah, e non dimenticatevi gli outfit per le Disco Nights!